Salve ragazzuoli bentornati in un nuovo episodio della nostra serie di sopravvivenza dopo aver capito come sbloccare i scambi con i villager nell'episodio precedente adesso andiamo a fare qualcosa di molto figo perché come avevo già detto, mi avete dato i consigli su come costruire qua dentro la nostra grotta abbiamo deciso di farla in uno stile misto quindi faremo uno stile nanico quindi con dei pilastri che sorreggono tutta la grotta strutture fatte in stone brick e uno stile verdeggiante come vedete io usando quel bellissimo moss block cioè il blocco di muschio che è una figata esagerata con 4 spalmate di bombilt e fai tutto quanto verde che è molto figo ora io scenderei di qua ok, non sono manco morto poi sterbetto ovviamente la devo togliere perché mi fa abbastanza e potentemente schifo l'unica cosa è che il blocco di muschio ragazzi è molto, guarda è proprio, si toglie come il burro praticamente lo tocchi e muore e questa è una cosa a cui potremmo stare un attimino più attenti però voglio dire, alla fine non è che lo perdi basta ripiazzarlo e siamo contenti quindi io voglio abusare di questo blocco per rendere tutto quanto verde perché è comodissimo cioè, ripeto, ve lo faccio rivedere per chi se lo fosse perso basta semplicemente mettere un po' di... eh, così e lui trasforma tutti i blocchi vicini in blocchi di muschio una cosa molto figa molto, molto figa quindi posso fare tutto quanto verde è bellissima questa cosa poi andrò a sostituire alcuni blocchi con della terra per fare i sentieri facciamo i sentieri con la pala quelli bellissimi, il pat qualcosa che non mi ricordo come si chiama sti alberelli pure come i tocchi muoiono meglio per il momento non voglio alberelli non voglio, eh, non voglio un cacchio di tutta sta roba voglio semplicemente dei blocchi normalissimi che diano l'impressione che sia tutto verdeggiante poi magari ce ne mettiamo qualche d'uno in giro però devo svuotarmi l'inventario perché sono carico di roba mi sembra più buia la situazione non lo so vabbè, dormiamo non posso dormire perché è giorno cosa cazzo sto dicendo posiamo le cose allora, ho posato un po' di roba e vi volevo dire un'altra cosa vediamo allora, prendiamo un attimo questo libro perché uno di voi esattamente aspettate che momento eccolo qua Noema Zonka mi ha praticamente consigliato di farmi una piattaforma piatta... come cosa sto? piattaforma per guardare dall'alto quindi visuale alto e poi mi ha detto di usare il villager con alambicco per scambiare gli smeraldi con la carne di zombie magari si scrive in italiano carne e porca zozza allora facciamo così villager, alambicco, zombie, carne perfetto se capisce dai, più o meno si capisce praticamente visto e considerato che io ho scoperto che qua sopra la mia base esattamente qua dentro c'ho una bellissima un bellissimo spawner di zombie a sto punto effettivamente io potrei farmi un mob spawner attrezzato fatto bene di zombie che cascano e muoiono da soli tanto bene o male sto sempre nei paraggi in modo tale da avere potenzialmente carne di zombie marcia infinita carne di zombie marcia che poi posso tranquillamente scambiare con il villager con l'alambicco ora io ce l'ho un alambicco in tutto ciò in teoria dovrei averlo trovato in qualche villaggio e me lo dovrei pure essere fregato se non mi ricordo male ma probabilmente sto dicendo una scemenza infatti è probabile che io stia dicendo una scema vabbè quello ce lo prendiamo lo craftiamo non è un problema comunque cosa voglio fare in questa puntata voglio creare il villaggio per i miei villager ed esattamente lo voglio creare in questa zona qua in basso mo devo un attimino terraforma tutto quindi per questo andiamo a guardare dall'alto intanto ci troviamo leviamo sterbetta maledetta che non mi piace manco un po' eccoci qua allora ragazzi io il villaggio lo vorrei fare lì praticamente dove sta il portale del nether lo tolgo terraformo tutta quella zona la faccio diventare una zona pianeggiante ci faccio tre casette quindi noi che abbiamo sto villaggio enorme intanto sta calando la notte e li voglio provare a lasciare liberi quindi devo illuminare assolutamente tutto perfettamente altrimenti arrivano zombie sedi secca secondo me si potrebbe fare per fare questo di cosa abbiamo bisogno innanzitutto di mangiare perché sto morendo di fame togliere tutta sterbetta maledetta che non la voglio per il momento qua vabbè man mano che la incontriamo la togliamo ok dovrei avere roba da mangiare sicuramente e infatti c'è ancora un sacco di carne ci mangiamo la carne dormiamo e ci mettiamo al lavoro ok siamo pronti siamo belli siamo tranquilli possiamo fare quello che ci pare andiamo un attimino qua e iniziamo a terraformare questa zona non sarà una passeggiata effettivamente perché non è che sia proprio pianeggiante pianeggiante questa zona allora intanto sfasciamo questo e lo mettiamo da un'altra parte sicuramente perché qua fa schifo ci troverò un posto decente ok portale l'abbiamo tolto vediamo un attimino come allora iniziamo a sfasciare questo livello qua che secondo me potrebbe già bastare in teoria vedete qua c'ho sto pezzo che oddio potrebbe anche essere utile per farci qualcosa però al momento non è che mi serva molto perché qua noi se scendiamo qua giù allora da qui dove è che andavamo che non mi ricordo mai qua andavamo in questa parte che ci avevo preso dei blocchi se non mi ricordo male infatti ci avevamo preso semplicemente dei blocchi quindi è una zona abbastanza inutile la possiamo anche murare per il momento mentre se andavo da quest'altro lato qua se non mi ricordo male non c'era un cacchio infatti qua c'è una zona chiusa forse vediamo se è vero zona chiusa perfetto visto del carbone intanto me lo prenderei perché voglio dire è peccato lasciare il carbone qua così a marcire poverino questo lo possiamo pure lasciare non ce ne frega niente qua lascerei tutto così ho visto del carbone no no sono le allucinazioni iniziano presto sta puntata abbiamo iniziato veramente prima con le allucinazioni allora ho dei blocchi da costruzione sì intanto qua possiamo far così e chiudiamo sta zona belli tranquilli questa è l'acqua che arriva da sopra che magari potrei pure iniziare a togliere non sarebbe una brutta cosa la vado un attimo a togliere perché tanto ne scendiamo di là e se mi riesce in questa puntata forse farò pure finalmente il sistema di risalita cioè lo voglio fare dall'inizio della serie e non l'ho ancora fatto però secondo me sarebbe anche il caso quante volte ci siamo morti tre? quattro? una roba del genere secondo me è il caso quindi ci mettiamo qua e chiudiamo dove l'ho messo quella fonte d'acqua maledetta eccola qua ce l'ho un secchio vuoto ce l'ho un secchio vuoto e voilà e finalmente ci siamo tolti dalle balle pure questa cascatina che era pure carina magari poi la rifacciamo però non qua allora quindi torniamo a noi e cerchiamo di terraformare un attimino questa zona ok sarà un lavoro abbastanza lungo perché la devo terraformare poi devo aggiustare queste parti qua con il buco perché se ci faccio il muschio non posso lasciarli di uno strato solo che come lo tocca il muschio quello si scretola quindi come minimo ci devo fare due strati in modo che sotto c'è della cobblestone in modo che se per sbaglio rompo un blocco non crea un buco e i villager mi cascano sotto sarebbe anche il caso di fare così per fortuna che con il nostro picconazzo che c'ha efficiency form ending break e fortuna rompe sta roba non è proprio una tragedia all'inizio col piccone normale ragazzi qua ci morivi attenzione che sento eh vedi 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 che ci stanno ancora questi qua non devono sponare mai che se mi sponano mentre qua c'è il villaggio è un casino mi seccano tutti i villager poi li devo resuscitare con la mela d'oro non si può fare quindi dobbiamo fare una cosa sistemata forse magari all'inizio giusto finché non sono sicuro che qua non sponi nessuno potrei fare il villaggio eh recintato secondo me è una buona idea all'inizio lo recinto in modo che i zombie pure se mi sponano non ci vanno dentro e dovrei essere abbastanza tranquillo poi la recinzione la voglio togliere voglio li voglio abbastanza liberi villager tanto in teoria una volta che ci hanno il lavoro da come ho letto nella wiki non dovrebbero allontanarsi tanto dal loro blocco lavoro in teoria la pratica non lo so dobbiamo dobbiamo verificare questa cosa però insomma se sta scritto sulla wiki dovrebbe essere così poi magari mi ricordo un cacchio per un altro e magari l'ho letto ma in realtà non era questo che ho letto ho letto un'altra cosa e sto mescolando le idee però vabbè ci proviamo io però avevo pure visto che dall'alto volevo fare volevo iniziare a fare un pilastro che partisse da qui e arrivasse lì su però mi pare che avevo deciso di farlo al centro di questa zona solo che da qua non mi sembra proprio centrato quindi magari devo andare a ricontrollare dall'alto così poi vediamo qual è il posto giusto allora sicuramente mi servirebbe conservare questi blocchi quindi vado a posarli un attimino nel mio magazzino che male non faccio sicuramente ok mi sono fatto una bella cesta così la metto qua sotto siamo tutti quanti contenti bella tranquilla e ci metto dentro i blocchi che andiamo a rompere ok continuiamo a terraformare signori e c'è anche del ferro che ferro te lo prendi certo che ce lo prendiamo il ferro ci piace tantissimo a noi visto che non ci abbiamo ancora una farba di ferro cosa che faremo dopo per forza nel mentre se lo troviamo il ferro ce lo prendiamo che poi alla fine quando c'è un piccone bello potente non è meno brutto terraformare perché voglio dire ti metti in un punto tipo io di solito faccio così mi metto in un punto così magari vediamo se riesco a scavare ecco mi metto qua metto una torcia e praticamente stando fermo giro intorno con il mouse così e scavo scavo tranquillamente quando ho finito mi sposto un po' più avanti e continuo a fare quello che devo fare alla fine se ci pensate è pure rilassante fare una roba del genere perché poi questo rumorino dei blocchi che si rompono nelle orecchie è quasi ipnotico cioè mi potrei tranquillamente addormentare mentre faccio sta cosa da questo punto di vista Minecraft è un antistress quando ti metti a fare sti lavori almeno per me diventa quasi l'ho detto rilassante sì una bella terapia poi lo sappiamo tutti che io tra 5 minuti inizio a dire che mi sto rompendo le balle però per il momento è terapeutica come cosa tanto piazzo torce qua sotto che poi dovrò chiudere e non è che mi va molto che poi mi sponano i mostri qua sotto quindi mettiamo un bel po' di torce e lasciamo tutto bello illuminato tanto poi sicuramente ci ricapitiamo qua sotto sicuro come loro però intanto tipo qua no sta zona è scurissima che c'è sta qua dentro non lo so noi illuminiamo tutto allora potrei iniziare l'operazione di chiusura in teoria qua devo fare due blocchi per forza in modo che questo diventerà muschio e sotto resterà cobles per il motivo di prima in modo che se disgraziatamente rompiamo un blocco non ci troviamo con un buco sotto che i villagers affossano muoiono oppure si sperdono e chi si è visto si è visto quindi ecco questo devo dire la verità è meno terapeutico sì decisamente meno terapeutico di quell'altro ecco mi servirà un bel po' di cobblestone per fare sto lavoro e forse quella che ho appena distrutto non mi basta però in teoria nell'inventario nel magazzino scusatemi ne dovrei avere un bel po' spero che mi basta beh che poi posso usare pure altri blocchi chi se ne frega non è che devo per forza usare la cobblestone ok piano piano stiamo sigillando tutto là sotto un altro blocco è fondamentale qua sotto non ce l'ho messo però vabbè ce lo metto non è un problema ecco li piazzo pure da sotto così sono sicuro che ne metto due da tutte le parti dovremmo più o meno esserci qua ho finito i blocchi e iniziamo ad usare questi tanto è uguale ok andiamo a vedere come sta venendo il nostro lavoro perché da giù non si capisce un cacchio quindi risaliremo nel punto della morte ovviamente la nostra piattaforma mortale è lassù e vediamo come sta venendo il tutto ok non sta venendo male non è grandissimo però non sta venendo male la colonna che io volevo fare forse lì non va bene perché non è centrata decisamente no allora io mi allargherei lì farei una cosa tipo un po' circolare così qua pure un po' circolare non precisa ovviamente te pareva veniva pure a piove non precisissima però cerchiamo di dare una forma a modi piazzola una cosa del genere quindi ci proviamo morirò porca zozza non sono morto vediamo se riusciamo a dormire che odio lavorare con la pioggia perché fa un casino infernale mi rompo le balle di togliere i suoni rimetterli in teoria posso dormire posso dormire ok allora andiamo a delineare la forma intanto prendiamoci un po' di blocchi di cobblestone magari mi dovrei svuotare sto cazzarola di inventare ogni tanto proviamoci allora mettiamo tutta la roba a posto suo quindi mi svuoto completamente tutto quello che non mi serve le lid vanno insieme agli animaretti i minerali vanno con i minerali questi attrezzini qua per il momento non me ne faccio niente questo vabbè magari lo posso usare per riparare piccone dopo la barca al momento non mi serve così come il letto abbiamo un compass che al momento lo butterei qua una mappa del teso eccolo l'alambicco vedi che ce l'avevo l'alambicco me lo ricordavo allora proviamo proviamo vediamo di fare uno scambio con questo tizio con l'alambicco allora non mi ricordo che scambi da però a me basta che mi da la carne di zombie questo qua l'abbiamo messo lì quindi io dovrei fare una roba del genere in teoria giusto lo metto qua lui dovrebbe prendere il lavoro 32 per per uno smeraldo mi sembra un po' pochino diciamoci la verità mi dai qualcosa di meglio amico mio? no ha detto che per lui va bene così perché è un bastardo fondamentale porca zozza è troppo potente sto piccone sempre 32 niente non mi pare che voglia migliorare ragazzo non lo so se le uso perché al momento mi è molto più conveniente questo 26 patate uno smeraldo ma io le patate le faccio in tempo record poi la facciamo un attimino una farm automatica non lo so per il momento non lo blocco con l'alambicco vedremo come si comporta più avanti mostra roba la mettiamo qua e continuiamo a svuotarci l'inventario allora qua mi prendo tutti i blocchi che non me ne frega niente di solito questi qua tutti i blocchi che io schifo potentemente la cobles ok in teoria così dovremmo stare a posto allora continuiamo un attimino a fare quello che dobbiamo fare quindi gli diamo una forma abbastanza circolare abbiamo detto più o meno ci proviamo allora vediamo un punto d'osservazione porca zozza maledetti alberelli di cacchio allora un punto d'osservazione un po' più in alto lì una forma circolare ok dovremmo seguire quello più o meno va bene forse ho capito come fare quindi partendo da qua io sfascerai tutta questa zona qui però ecco lo zombetto assassino vedi che arrivano vedi che ci stanno ancora sti zombetti che dobbiamo assolutamente eliminare questo prende pure fuoco il maledetto allora rompiamo tutta questa zona qua in modo che dobbiamo mantenere un aspetto circolare più o meno che forse è anche troppo grande per tre villager però magari in futuro ce ne portiamo degli altri mai dire mai o ci facciamo qualche altra cosa voglio dire una volta che fai uno pseudo villaggio ci puoi pure mettere delle strutture che ti servono tipo che ne so una fornace la stanza dell'enchanting oppure quella dell'alambicco qualcosa ci faremo una slimeball così a gratis porca zozza sono caduto dentro dove cazzo lo sono finito ok sto posto è un po' una trappola effettivamente prendiamoci sti blocchi che sicuramente mi serviranno e risaliamo ecco i blocchi di gravel sono una cosa praticamente inutile in questo momento ok signori più o meno dovrebbe aver finito questa dovrebbe essere la zona dove far venire il villaggio dei villager qua magari chiudiamo un attimino ste zone morte in questo modo qua senza troppi problemi ecco magari tu sei un problema allora eccoci qua ok questa parte è venuta abbastanza carina forse dovrei tondeggiare pure quella un pochino giusto un po' poco poco sì secondo me sì vabbè la vado a fare e intanto guardala che ci sta guarda è gigantesco questo slimer slimer no questo slime come cazzo si chiama lui slimer perché mi è venuto lo slimer è enorme allora ragazzo amico mio muori con calma che a me sta roba poi mi servirà che devo fare circuiti mi serve tutto quindi bello calmo calmo tranquillo vedi vedi cioè è fighissimo avere la base in un chunk di slime è proprio una cosa strafiga ok 14 slime cioè signori attenzione cioè non 2 3 14 roba figa allora continuo a distruggere sto pezzo qua intanto uh del ferro me lo prendo molto volentieri no era poco e col ferro siamo un po' sfigatelli bisogna dirlo ok continuiamo e ce ne è spuntato un altro cioè raga ma qua ne spunta uno ogni 2 minuti cioè è una figata sta cosa ma bellissimo eh aspetta questo fa pure male però eh allora vieni più eh quello è andato là sotto il bastardo allora tu non andare lì sotto che poi ti perdi è un casino non mi ha dato niente questo è tornato fuori ok ok bene bene buono quindi qua ne spunta proprio un casino di roba fighissimo cioè io ero andato qua a fa sto muro e quello mi è spunato bellissima sta cosa allora a questo punto bisogna testare il nostro eh moss block io qua non l'ho fatto alla fine ho chiuso per il momento non li lascio liberi faccio così in teoria i zombie non si dovrebbero buttare da questa altezza in teoria e se si buttano sono bastardi cioè non è che ci sta l'altra spiegazione comunque adesso mi vado a prendere un po' di bombi le faccio un po' di tentativi vediamo come viene questo tutto messo a moss block ma domanda ma questi alberelli qua che spuntano cioè spuntano con la bombi non è che mi spuntano spontaneamente perché io mi ricordo di averli rotti ma ogni tanto li ritrovo o me li sono saltati o questi spuntano da soli ma se spuntano da soli è un casino cioè non voglio avere tutto sto coso pieno di sti alberelli maledetti no ma secondo me non è possibile che spuntano da soli cioè saranno spuntati prima con la bombi e me li sono scordati è l'unica spiegazione plausibile allora le torce ce l'ho i blocchi ce l'ho andiamo a rendere questo posto un attimino più vivibile poi ci mettiamo pure i blocchi di terra per farci un po' di sentieri e in teoria potremo iniziare a costruire le casette per i nostri villager allora io lo metto qua bello centrato così e dovrebbe ok non mi dire che sulla cobblestone non fa effetto perché altrimenti porcono malissimo sulla cobblestone non ha effetto non ci credo quindi tutta la cobblestone che ho messo non funziona bellissima questa cosa vuol dire che devo sostituirlo con dei blocchi tipo questi qua vabbè non è un grosso problema quindi sto togliando la cobblestone perché abbiamo capito che il moss block c'ha effetto solamente sui blocchi naturali la cobblestone è un blocco che noi otteniamo quando distruggiamo la stone quindi lassù non c'ha effetto però su tutti gli altri tipi di pietre tipo la stone l'andesite quelle che quando le rompiamo non cambiano stato su quelle c'è effetto quindi io mo sto togliendo la cobblestone che avevo messo prima e la sostituisco con un altro tipo di pietra devo togliere anche la gravel che a quanto pare gli fa schifo pure al moss block c'ha ragione poverino qua abbiamo pure trovato del ferro che me lo prendo ovviamente e non è che sto qua a lasciarlo morire poverino però intanto ci posso buttare questa roba sotto la gravel qua sotto la posso buttare tranquillamente e qua devo mettere tutta andesite o altri blocchi naturali vediamo che c'è rimasto nella nostra cesta magica e oddio beh dai ci abbiamo un po' di roba questa qua la togliamo ci prendiamo questo vediamo pure questo questo mi serve ci prendiamo anche questo anche la terra in teoria viene trasformata effettivamente io di terra ce n'ho un bel po' potrei mettere la terra chi se ne frega facciamo questa prova velocissima mettiamo una torcia che non si vede già un cacchio e vediamo se anche la terra viene trasformata in moss block secondo me si perché comunque sempre terra è cioè sia quando sta allo stato naturale che quando la zappetti comunque rimane terra non è che cambia quindi secondo le mie teorie astro-scientifiche dovrebbe trasformarsi in coso in moss block vediamo se è vero si trasforma meno male perfetto troviamo tutte sterbette che per il momento mi danno solamente fastidio tantissimo ok qua lo facciamo dopo qua dovremmo riuscire a trasformare tutto tranquillissimamente così perfetto questa torcia la mettiamo qua altrimenti anche i blocchi che hanno sopra qualcosa non vengono trasformati tipo qua c'è la torcia e lui non la trasforma però se la togliamo gliene frega un cacchio e la trasforma tranquillamente qua sfasciamo tutto continuiamo pure qua perfetto voglio farlo tutto verde e poi in un secondo momento vado a mettere anche della terra per fare i sentieri però il villaggio è bello che sia verde qua abbiamo altra di sto schifo maledetta di gravel quanto la odio quanto la odio la gravel è proprio un odio profondo cioè non serve a niente è un blocco stupido ok facciamo così così tu sei cobblestone e vai assolutamente tolto qua ci mettiamo una torcia qua facciamo così e in teoria come per magia esattamente si trasforma tutto in moss block se non fosse quest'erbetta maledetta sarebbe un lavoro proprio easy ma proprio easy da fare però c'è l'erbetta che mi rompe le cioè proprio ne spona tanta capito diventa una foresta non è un villaggio è una zona proprio incolta nonostante a me piacciono le zone naturali però così è esagerato ragazzo poi stanno pure sti tappeti vabbè poi li toglieremo per il momento lasciamo così qua vabbè lo faccio ecco c'è la torcia che gli rompe le balle ok abbiamo fatto perfetto ritogliamo alberi alberelli erbette e cazzi mari va benissimo qua riempiamo con questa sto togliendo gli ultimi blocchi di cobblestone che erano rimasti così li sostituisco e siamo tutti quanti contenti mettiamo delle torce in giro per il mondo che sta zona deve essere non illuminata di più se no mi seccano i villager ancora prima che ci metto non ci vedo ho finito la la bombil però ce n'ho ancora sicuro 100-100 ho fatto mi rendo conto che può sembrare tutto molto verde anche troppo verde però fidatevi che poi una volta che mettiamo i sentieri le costruzioni e altre roba ovviamente non lascio così verde se no veramente è un pugno nell'occhio iniziamo a fare delle casette per i villager intanto ho pure fatto l'esperimento che non mi ricordavo il blocco di terra lo puoi trasformare in sentiero pure se non è verde questa è una cosa molto buona perché noi con i sentieri praticamente qua sotto ci camperemo ve lo dico allora sì dobbiamo fare delle casette per i villager e buttarci di dentro ok io prima o poi ci rimuoio qua dentro lo so prima che farò la salita d'acqua ci muoio e non vorrei visto che ho 36 livelli di esperienza me li vorrei tenere belli e cari allora le casette per i villager io farei una cosa molto semplice per iniziare però non c'ho molto legno allora c'ho l'hawk planks ce ne ho 56 forse sono forse probabilmente sono pochini dovrei fare più legno ma non è un problema mi porterò pure l'hawk log e va bene un po' di spruce secondo me ci sta bene questo anche ce lo prendiamo e sicuramente dovremmo fare dove l'ho messo gli alberelli ok gli alberelli di hawk ce l'ho lo spruce la jungle non c'ho il dark oak che mi piace un casino ma non è un problema vado a far crescere un po' di alberelli la cetta ce l'ho sì anche se sta morendo sapete che vi dico io mi faccio una bella ascia di diamante e passa la paura visto che ce li abbiamo voglio dire perché non farceli ovviamente mi serviranno anche dei lapislazzi altrimenti non faccio un cacchio io c'ho sempre il problema che il mio inventario è strapieno allora mi serve sì magari se faccio prima perché vengo ad incantare le cose quando non le ho ancora fatte che problemi ho parecchi evidentemente raga non vi preoccupate che ho fatto un villaggio che è la fine del mondo è una roba incredibile dove sta la mia crafting table facciamoci uno stick 4 va bene e facciamoci la nostra ascia di diamante perfetto questa la posso pure andare a buttare nella monnezza perché non mi serve più andiamo ad incantare la nostra ascia vediamo cosa ci esce fuori non è che mi serve chissà che cosa perché l'ascia all'occorrenza uno se la fa però voglio dire non ho intenzione di mettere manding sull'ascia a meno che non mi esce un'ascia ecco tipo questa no efficiency è bellissima è l'ascia della vita ci abbiamo già l'ascia perfetto ottimo ok andiamo signori a fare gli alberelli la terra ce l'ho ma poi ce l'ho pure là dentro quindi non è un problema famo così e via qua dentro ho della terra vero mi sembra di sì 35 vabbè mi basta mi basta quindi faccio una cosa di questo tipo giusto per fare un po' di alberelli ecco qua veloce veloce così abbiamo un po' di legno da utilizzare 2 3 4 5 6 bombilliamo tutto tu non vai bene perché sei troppo vicino non voglio consuma tutta la bombill per farti crescere sentite questo rumore bellissimo secondo me c'è un altro slime dobbiamo andare a controllare dobbiamo verificare questa cosa spada alla mano non so perché non c'ho mai la spada dove serve dov'è lo sento ma non lo vedo sarà qua sotto non lo sento più dove cazzo la sta qua sotto oh porca zozza raga io sentivo uno slime lo sentite pure voi ne so sicuro qua si sente dove cazzo l'ha andato a finire il mio slime forse sta su no non sta su vuoi vedere che sta qua sotto sto deficiente eh porca miseria ma io lo devo assolutamente beccare sto slime dove sei amico perché non ti trovo sarà qua qua non lo vedo ma dove cazzo la sta eccolo ma sei microscopico cioè mi è andata a sponare qua sotto e qua sotto mi sa che devo chiudere raga se no non lo so qua bisogna sistemare la sta faccenda degli slime altrimenti è un problema allora intanto qua posso chiudere mi ero lasciato dei pezzi così incustoditi allora a me mi va pure bene che mi spona qua sotto però deve avere lo spazio per sponare uno bello potente no sti cosi piccoletti quindi qua amplierei un attimo questa zona di spawning per il mio slime fantastico che poi questo spona pure con la luce non gli frega niente beh mi fa piacere questa cosa ok in teoria lo spazio moce là dai può sponare secondo me senza problemi ma il problema è come risali da dove vengo da qua no mi sono già perso vengo da qua su ok va bene abbiamo capito che lo slime gli slime sponano qua sotto poi farò un modo per andargli a prendere più simpatico di quello che ho fatto mo qua chiudiamo così allora dicevo piantiamo i nostri cycling e facciamoli crescere così poi ci prendiamo un po' di legno ecco la nostra super ascia mo è una favola ok ragazzi ho pure tolto tutti i tappeti ce ne stavano un milione praticamente una marea di tappeti una roba assurda ok dovrei aver finito possiamo iniziare a costruire delle casette inizialmente farò delle casette molto semplici poi sto villaggio piano piano lo andremo ad ottimizzare però mo tanto per dargli un posto dove stare io faccio delle casette abbastanza basiche allora mettiamo una crafting table da qualche parte ho l'inventario pieno di schifo proprio all'inverosimile pure quella è già piena di roba non è un problema quindi facciamo così ok iniziamo a fare delle casette io farei tanto per allora metterei una casetta qua due tre larga tre mi sembra proprio poco cinque facciamo così quindi là ci va il blocco lavoro loro sono contenti una cosa del genere secondo me può andare bene ok dovrei metterci delle finestre non ho il vetro quindi per il momento faccio così mi serviranno delle porte sicuramente faccio tutto quanto con lock planks per il momento poi come ho detto prima andiamo a modificare andiamo a ottimizzare però adesso non c'ho sbattito e fa altra roba quindi facciamo così allora qui ci mettiamo della bella cobblestone per terra che fa sempre la sua porca figura secondo me ci sta da dio non è vero mai però non c'ho voglia di prendere altri blocchi quindi per il momento i ragazzi si fanno andare bene la cobblestone cioè voglio dire questo ce sta questo passa il convento questi si prendono va bene va benissimo qua ci mettiamo la loro porticina che sarà qua perfetto così possono andarsene a dormire stavo dicendo affanculo ma in realtà se devo andare a dormire ragazzi qua possiamo mettere ma io non ci metterei quasi nulla sinceramente le facciamo alte quanto ma secondo me piccoline possono pure andare bene voglio dire non è che chissà che dobbiamo fare tanto è solamente una situazione molto provvisoria giusto per dargli un posto dove andare intanto io sto buttando blocchi da tutte le parti ma non è un problema allora vediamo di fargli un tetto a sta casa tanto per avercelo giusto giusto facciamo così ok non è la casa più bella del mondo me ne rendo conto me ne rendo conto perfettamente ragazzi ma come ho detto poi la ottimizziamo così fa abbastanza schifo è vero me ne sono consapevole ok perfetto una casetta così tanto per avercelo magari qua la copriamo proprio con questo coso così in modo che sopra non dovrebbero poter sponare i zombie in teoria se non mi ricordo male i zombie non sponano né sulle scale e né sugli slab sugli slab lo so per certo che non ci sponano sulle scale non mi ricordo bene però sono quasi sicuro che non ci sponano magari se riesco a prendermi sta roba a fare gli slab forse siamo tutti più contenti ok allora questa prima casetta direi che potremmo anche finirla così non è bella però va bene lo stesso qui non ho finestre quindi per il momento ci metterò delle fence in teoria le fence dovrebbero proteggerli dagli zombie anche se come ho detto prima qua gli zombie in linea del tutto teorica non ci dovrebbero arrivare ok così dovrebbe essere sto facendo delle fence sì facciamo delle fence 9 fence penso che mi possano anche bastare diamole a mettere da queste parti qua ne mettiamo una qua una qua una qua una qua e un'altra qua ok la prima casetta l'abbiamo fatta ma qua ovviamente io ci voglio mettere una sorta di percorso come vi ho detto prima quindi faremo con la terra in questo modo qua e con la pala dovremmo riuscire a fare qualcosa di questo tipo non è male è una bozza ovviamente però come bozza potrebbe pure andare bene qua leviamo un attimo facciamo così insomma oh gli sto a fare un villaggio da zero voglio dire che cazzo non la vogliono da me è vero non è bellissimo è ancora in fase di costruzione però potenzialmente potrebbe diventare molto bello questo villaggio secondo me sì che alla fine basta fare un po' di lavoretti qua e là e secondo me il villaggio potrebbe prendere una forma molto affascinante cosa cazzo lo lascio qua sotto un buco chiudiamo vedete perché ho messo un doppio strato perché con questi blocchi di di come si chiama di moss sono carini ma sono veramente mi verrebbe da dire fragili ma la parola giusta forse è frascichi proprio cioè nel senso che come i tocchi si sfacellano non è proprio il massimo allora va bene così qua magari ci possiamo fare una deviazione un sentiero che se ne va da qualche parte dio solo sa dove qua lo facciamo continuare così tanto per c'ho degli altri blocchi di terra io spero tantissimo di sì dovrebbero stare qua dentro in teoria vero non è vero mai oh la terra l'ho lasciata sopra devo andarmi a prendere un po' di terra sopra vado subito ok mi son preso la terra che mi mancava quindi andiamo a mettere un po' di terra quella sparpagliata che secondo me ci sta benissimo questa qua magari la possiamo far arrivare qua non proprio vicino lì perché non avrebbe senso qua c'è il buchetto che mi so fatto per la farm di come cacchio si chiamano la farm il chunk loader il chunk spawner non mi ricordo come si chiama comunque dove spuntano gli slime quindi potrei anche lasciarlo così qua potremmo fa una robetta del genere tanto per avercela ok e mo con la pala andiamo a spalazzare tutto quindi facciamo sto sentiero per il momento sono sentieri uno di uno poi magari li facciamo un attimino più carini di due di tre non lo so tanto facciamo così siamo tutti contentissimi bellissimi e voilà bellissimi poi ci faremo dei lampioncini insomma questo villaggio piano piano diventerà carino per il momento è uno brobrio me ne rendo conto però questo passa il convento non è che possono pretendere chissà che cosa allora io poi qua qua no perché altrimenti va troppo vicino però qua ce lo farei un'altra casetta qua ce la farei tranquillamente allora come facciamo questa casetta qui possiamo fare qualcosa di questo tipo uno due uno questa la voglio fare un po' più piccolina secondo voi va bene più piccolina ma secondo me sì perché alla fine voglio dire che gli frega quelli devono stare qua belli tranquilli non è che chissà che devono fare questi villager basta che c'hanno un posto ad andarsene a dormire e loro sono contentissimi non è che gli interessa chissà che cosa mettiamoci delle fence devo farmi delle altre fence assolutamente quindi altri stickettini per noi signori usiamo sempre lo spruzzo questo è spruzzo giusto in teoria porca zozza ma che c'ho lo sto mouse lo spruzzo per il momento non lo stiamo usando quindi va bene così facciamo così qua però mi serve per forza questo quindi devo prima scraftarmi sta roba facciamo così magari c'è il mouse troppo lento sì era il mouse troppo lento ecco perché mi stavo rincoglionendo ok facciamo una roba del genere qua faremo così altre scalette me le devo fare assolutamente ce le facciamo un attimo al volo velocissimamente così quante ne facciamo 24 secondo me 24 mi bastano per far tutto facciamo così belli tranquilli tac tac ecco qua è una bella casettina stile povero proprio però signori per il momento questo ci abbiamo e questo sepigliano non è che possiamo fare altro poi le facciamo diverse le più carine però queste ci stanno la porta ce l'abbiamo la mettiamo qua bellissima però devo prima togliere qua sotto sta roba altrimenti fa schifo tantissimo ci mettiamo a lui ci mettiamo questa vedete perché ci mettiamo quella perché quella mi è rimasta e chiaramente quello ci metto una bella porta qua una torcia rigorosamente la mettiamo pure qua altrimenti potrebbero succedere bruttissime cose ovviamente gli metterò anche dei letti ai ragazzi non è che li lascio così al buio poverelli e qua facciamo la terza casetta per il momento anche questa casetta io la farei più o meno così beh questa magari la faccio leggerissimamente più grande ma proprio di uno sputo ok qua ci mettiamo una torcia così tanto per illuminare qui c'è la porta ovviamente questa parete qua ci metto solamente una slab qua pure ce ne metto una slab volevo dire una fence qua pure ce ne metto una qua invece ce ne vogliono mettere tre perché non lo so fa figo là ce l'ho messa le slab si quante slab ho cioè quante fence ho va bene uno due tre quattro oh si ce la facciamo forse forse no è più probabile che non ce la facciamo porca zozza mi sono andato a infilare in un posto in un posto brutto famo così ok ce ne abbiamo ancora tre e non ce la facciamo eh lo sapevo io vedete l'ho voluta fare troppo grande eh no se è stile povero non la devo fare grande la devo fare più piccola mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo per un paio non ce l'abbiamo fatta qua pure ci dobbiamo fare la pavimentazione mettiamoci la solita torcia e qua che ce metto questo questo c'ho questo te becchi signore non possiamo fare altro la porticina ce la mettiamo e andiamo a mettere anche in questo caso delle bellissime fence a mo' di finestra prigione fantastico ora dobbiamo mettere i blocchi lavoro da qualche parte qua dentro e poi portarci i nostri villager è tutto molto semplice forse a meno spero quindi facciamo così sarà un macello portare i villager io già lo so io lo so benissimo che sarà un macello allora intanto mi prendo la barchetta che mi serve e blocco lavoro a quello non so ancora che dagli gli metto la lambicco per il momento così lui cambia lavoro in continuazione a noi non ce ne frega niente questo qua va bene questo qua me lo posso pure prendere quindi io quasi quasi iniziare a farmi seguire da questo mi avete detto che i ragazzi seguono il blocco lavoro quindi se io gli metto un blocco lavoro per esempio qua lui dovrebbe prendere quell'altro blocco lavoro perché ovviamente ce ne stanno due va benissimo non è un problema tu sei un deficiente io ti rompo pure questo allora amico mio mi hanno detto hai ragione notte scusami ha ragione lui ok mi sono sbagliato io ha ragione lui era notte e lui giustamente va a dormire allora amico mio io c'è il blocco lavoro ma tu mi segui se ce l'ho in mano il blocco lavoro no mi segui se lo piazzo e vedi che lui è furbissimo io lo piazzo lui mi segue io vado qua lo piazzo anche qua lui dovrebbe seguirmi tantissimo io piazzo una barchettina a trabocchetto qua lui è tanto è tanto deficiente che ci va giustamente sfasciamo un attimo questa barchettina entriamo e andiamo a portare il nostro amico sperando di farcela sperando di non incontrare tappeti o roba varia andiamo a... uh mi sono scordato di chiudere il tetto di una casa effettivamente non ci avevo fatto caso non è un problema la chiudiamo adesso non ci vorrà assolutamente nulla facciamo così ok ovviamente guarda ti voglio dare questa perché secondo me è la casa perfetta per te poi ti metto pure il letto te lo giuro per il momento io lo devo mettere il letto ragazzi dobbiamo fare dei letti dai non mi va di lasciarli così poverini prendiamoci un attimino questi blocchi tanto da qua non potete uscire in teoria gli zombie non possono venirvi a rosicchiare le caviglie io spero tantissimo lo spero veramente tanto magari ci posso mettere un golem là dentro tanto per star sicuri secondo me non è una brutta idea allora quanta lana c'ho? dimmi che c'ho della lana non ho della lana bellissima questa cosa mi serve della lana ok intanto metto sto letto al poverino poi qua allora voi direte come fai a salire ad entrare e uscire da sto posto? secondo me forse questo potrebbe essere un problema gli zombie potrebbero andarci allora amico ti sto dando un letto lo vuoi un bel letto comodo? ti metto anche il letto guarda ragazzo voglio dire meglio di così stavi al tuo villaggio però il tuo villaggio non c'è più quindi meglio di così non ti poteva andare allora dobbiamo andarci a prendere un attimino di lana vado subito dovrei trovare delle pecorelle in modo molto easy qua fuori in teoria non gli posso dare il letto mio capite? quello non mi serve a me allora io ricordo benissimo che c'erano delle pecorelle qua in zona quindi liberiamo furia assassino qua e andiamo da quest'altra parte da quest'altra parte troveremo delle pecorelle in tempo zero spero oh vedi che le pecorelle ci sono? quante ce ne sono? pochine dammi della lana bravissima l'ho presa la lana un blocco di lana è poco quanti blocchi di lana? tre ok un letto ce l'abbiamo mi serve un altro oh tu sei una pecorella vieni qua dove scappi? due blocchi di lana a casa ce li ho quindi in teoria abbiamo già tutto quello che ci serve per fare sì abbiamo quello che ci serve per fare due letti possiamo tornare a casa è stata una cosa molto veloce spero di non seccare male il cavallo ci rimarrei abbastanza di merda se mi muore per pigliare un po' di lana comunque sto cavallo è fantastico non so se gli altri sono così potenti ma o se io non me lo ricordo come erano i cavalli ma questo veramente lo vedo lo trovo molto potente allora ciccio io ti leggo qua vedi niente ciao bello ci vediamo dopo salto della fede mistico ok non sono ancora morto che è una cosa che mi fa molto piacere allora facciamo altri due letti per questi poverini tanto il legno ce l'ho ecco qua ed ecco qua uno due perfetto questi li mettiamo tutti quanti qua prendiamoci il blocco lavoro di questo tipo esattamente questo lo prendiamo magari lo liberiamo anche e ci facciamo seguire ora in teoria lui dovrebbe venire proprio velocissimamente qua guarda come sente proprio la puzza del suo blocco lavoro io metto la barchetta là lui ci finisce dentro e siamo tutti quanti contenti a saperlo prima sto fatto mi sarei evitato di porconare male in 15 lingue diverse però non lo sapevo o per meglio dire non me lo ricordavo va bene così non è un problema quello intanto sta bello tranquillo si sta ambientando a casa sua noi siamo contentissimi io a te ti lascerei proprio proprio guarda qua quindi ti metto un bel letto così e questo blocco te lo metterei qua secondo me sei contentissimo però secondo me sono contenti sul serio cioè alla fine qua stanno meglio del loro villaggio perché tra un po' questo glielo ottimizziamo glielo perfezioniamo insomma facciamo un sacco di robe mo dobbiamo andarci a prendere questo tipo che in teoria dovrebbe guarda ti metto il blocco lavoro lì la barca me la metto qua vediamo se vai al tuo blocco lavoro anche se non sai ancora che è il tuo blocco lo sta guardando lo sta guardando cioè ragazzi ma di che cosa cazzarola stiamo parlando? cioè ma era semplicissimo fregare dei villager con i blocchi lavoro ma io non sapevo sta cosa non cascare non cascare sei cascato? sei cascato sei cascato purtroppo non sarei dovuto cascare in questo modo non c'è problema vatti a prendere il tuo blocco lavoro amico mio ecco bravo vai su vieni qua dove sta oh no no non è quello il blocco lavoro ha sbagliato il blocco lavoro sto deficiente aspetta un attimo sta qua sta qua sta qua ciccio bravo perché non vai nella barca? devi andare non è il momento di fare giro giro tondo vai nella barca su vai nella barca perché non vai nella barca? non ha manco preso il blocco lavoro ma quello si va a prendere io ho problemi con sto villager dove è andato? dove sta? lassù per quale cazzo di motivo sei lassù? vieni qua c'è un alambicco c'è un ok eh l'ho dovuto menare non avrei voluto farlo però ragazzi avete visto tutti ma costretto quindi lui niente l'ho menato vabbè poi gli passa tanto eccoci qua perfettissimo un bel alambicco qua dentro che tu sei contentissimo te lo metto qua qua ti metto un bellissimo letto proprio in stile dormo e sono con te non lo posso mettere perché ho fatto una casa microscopica allora facciamo così metto porca zozza sto piccone è troppo forte mettiamo il letto qua e l'alambicco qua andiamo a liberarlo allora ragazzo ora tu puoi fare quello che ti pare ma il tuo blocco è questo qui vedi? sta qua ora in teoria dovresti trovare un letto quando fa buio vai bravo bravissimo eccolo qua vabbè non me ne chiede di più perché sei incazzato giustamente qua dentro dove sta? tu stai qua che gironzo eh lo so ragazzi non è che c'è molto da fare adesso in questo posto avete ragione però tra un po' lo ottimizziamo controlliamo che sia tutto illuminato alla perfezione non vorrei mai che mi esponano zombie a tradimento qua sotto ci rimarrei no di merda ma di più loro girano in questo posto perché si devono ambientare è giusto ora affrontiamo il discorso risalita come facciamo noi a scendere a risalire vabbè a scendere ci buttiamo a risalire ma i villager salgono le scale che voi sappiate? in teoria no cioè non mi sembra che salgano le scale poi magari qua facciamo così ragazzi eh tanto per avere una cosa più carina e sistemata ci possiamo mettere dei blocchi in questo modo che secondo me ci sta ci sta tanto come cosa allora io guarda ma proprio per scaramanzia mettere altre luci un po' in giro poi anche il sistema di illuminazione lo curiamo meglio perché mi fa un po' schifo allora come sistema di risalita la mia domanda è i villager salgono le scale? vediamo se salgono le scale ok sulla wiki c'è scritto che possono salire le scale non lo fanno intenzionalmente quindi non lo so si drogano e salgono mentre sono a suoi fatti però possono salire le scale il che vuol dire che per il momento io qua le scale non ce le metto qua vorrei un attimo chiudere non lo so perché ma mi inquieta questa cosa c'è un altro tappeto porca dozza ho detto sti blocchi soffichi ma è un casino cioè ti mettono diecimila cose inutili ok allora io penso che per il momento dovrebbero essere tutti quanti al sicuro stanno dormendo stanno dormendo perché è notte giustamente lui no perché perché lui non dorme tu chi sei? tu c'hai Mending ti ha fregato il letto questo? no perché questo? ma tu non dovresti stare qua razza di deficiente tu devi stare è perché la colpa è di questo deficiente vedi allora calmi un attimo tutti perché non dormite nei vostri letti maledetti vabbè ormai questo si è fregato sto letto dove sta il letto? si è clicciato il letto è sparito il letto porca zozza maledetta è sparito il letto ah no ce l'ho nell'inventario ok allora vabbè questo è il suo letto ok leviamo questo da qua e gli mettiamo questo a lui che dobbiamo fa non possiamo fare nulla non ve fregate il letto a vicenda gentilmente amico il tuo letto è questo razza di deficiente ignorante facciamo prendere sto letto a sto tipo vediamo se se lo prende vatti a prendere il tuo letto bravo bravissimo quello è il tuo e ne è rimasto solamente uno per te dove sta quel deficiente? ma perché vai qua? c'è un letto c'è casa tua sta lì è stupido questo è il più stupido di tutti c'è casa tua sta lì perché c'è un altro ce ne avevo due si ce ne avevo due perché me ne avevo distrutto quello qua sta casa tua vedi? oh ragazzo forse non ci può andare perché c'è l'alambicco potrebbe essere cioè ho sbagliato io che gli ho messo l'alambicco là ah forse non ci va perché c'è l'alambicco vediamo se muovo a dormire è ancora notte? si ah ok allora gli ho bloccato io il letto ecco perché non andavo a dormire però non lo so ragazzi è strano questi villaggi sono strani poi analizzeremo con più calma allora gli li metto fuori per il momento va bene va bene comunque abbiamo fatto il nostro pseudo villaggio va bene così prendiamoci dei blocchi risaliamo e ciccio ecco magari faccio così così mi ricordo che di là si sale andiamo a dormire anche noi a sto punto che non è una cosa brutta da fare oh e adesso che abbiamo dormito gustiamoci dall'alto cosa è venuto secondo me non è proprio bello ancora da vedere dall'alto però dai inizia a prendere forma questa questa base piano piano con molta molta tranquillità anche perché detto questa è una serie molto scialla quindi la sciallitudine ci colpisce tutti facciamo le cose con calma non ce ne frega niente là c'è un creeper due tre creeper e sti cazzi e porca zozza ok ci sta va ancora abbellito magari là un bel recinto di legno ci starebbe benissimo un'altra casetta pure ce la potremmo mettere altre due casette anche ci potrebbero stare una piazzola centrale insomma poi abbelliamo il villaggio però abbiamo un villaggio direttamente nella base che secondo me non è poco attenzione guarda come si stanno ambientando tutti quanti ok io volevo fare il discorso per la risalita momentanea ovviamente come lo farò lo faccio di qua lo posso fare di qua una cosa proprio easy allora vediamo un attimo dove farlo secondo me lo posso fare qua così ok non era esattamente quello che volevo fare assolutamente forse lo dobbiamo fare un po' più in dentro penso di sì allora facciamo così cambiamo tecnica andiamo qua ecco qua anche questa risalita ovviamente sarà molto momentanea facciamo così e speriamo di risalire ok abbiamo fatto un buco perfetto adesso le secchiate d'acqua ce l'abbiamo mi serve solamente un po' di salt sand delle kelp e siamo a posto la salt sand ce l'ho assolutamente dove non mi ricordo più però ce l'ho eccola qua me ne serve solamente un blocco io sto carico di immondizia qua dentro è proprio carico posiamo un po' di roba di legno qua tipo questo qua non lo devo posare questo lo devo mettere a posto suo porca zozza sto a fare un casino ve lo dico sto facendo un casino mettiamoci il libro sopra perfetto posiamo le altre cosette di legno che al momento non ci servono prendiamoci delle kelp 24 vabbè prendo 64 tanto per star tranquilli questo ce l'abbiamo la soul ce l'abbiamo quindi devo fare molto semplicemente mi servirà qualcosa per bloccare una porta facciamo una porta facciamo una porta ce l'ho già una porta da qualche parte non c'ho una porta facciamoci una porta però me la faccio così una bella porta di questo perché sento un villager ma sono quei villager che fanno casino cioè si sentono così tanto sti villager no secondo me c'è un villager qua vedete che c'è un villager qua dentro raga c'è un villager qua vicino io non penso che i villager si sentano così da lontano dai forse c'è un villager quassù potrebbe essere ce n'era un altro di villager quello senza lavoro non l'avevo ancora ammazzato o l'avevo ammazzato non mi ricordo vabbè comunque chi se ne frega dicevo andiamo a mettere una bella porticina in quella che sarà la nostra via di risalita senza morte possibilmente ecco qua la mettiamo non qua ma qua così perfetto qua ci mettiamo la nostra soul sand in questo modo qua perfetto magari qua chiudiamo tanto per avere una cosa carina saliamo su secchiata d'acqua riscendiamo mettiamo le carpe e dobbiamo essere a posto e con questo abbiamo fatto il sistema di risalita sicuro poi c'è il discorso della discesa che per il momento non è ancora sicuro ma quelli sono dettagli allora io metterei una bella secchiata d'acqua proprio qua così poi qua dovrei aver lasciato un buco aperto mortale infatti ho lasciato un buco aperto mortale che lo chiudiamo subito sai com'è va bene tutto però insomma fino a un certo punto allora qua mi posso lanciare tranquillissimamente così e qua in teoria possiamo fare questo che mi trasforma l'acqua mossa in acqua ferma e quindi dovrebbero spuntare bollicine che poi ci fanno salire sopra giusto di più non si può che cosa ho preso ho preso un fiore va bene non mi fa morire ora perfetto vediamo se funziona tutto rompiamo questo dovrebbero spuntare delle bollicine non spuntano delle bollicine per quale cazzo di motivo ah ecco spuntano si stava un attimino preparando ok il sistema di risalita ce l'abbiamo perfetto quindi ora io posso togliere questo assolutamente e farmi una pozza dove cadere potrebbe essere utile come cosa potrebbe essere utile la farò a fianco a questo qua una pozza deve cadere tipo per esempio la posso fare ok dovrebbe essere esattamente qua così poi se non mi ricordo male mi aveva detto gas sempre che se io là dentro ci metto un blocco non solido tipo una cesta atterro nell'acqua non muoio però lo voglio sperimentare quando ho pochi livelli non che io non mi fidi per carità però sai com'è con la sfiga che ho magari becco lo spigolo e mi stupeo no 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 lo sperimentiamo dopo intanto ci facciamo un sistema di discesa l'acqua ce l'ho non so perché stavo tornando alla mia base non ne ho idea probabilmente perché non sto bene allora quindi devo andare un blocco di qua eccoci qua quindi il mio sistema di c'ho creeper dietro no va bene ok qua in teoria devo scavare e dovrei arrivare giù a tutto dove andiamo a mettere una bella secchiata d'acqua così c'ho anche il sistema per scendere veloce l'avrei potuto fare in un'altra posizione più comodo sì non l'ho fatto non l'ho fatto non ci posso fare niente ok qua questo lo togliamo perché è fastidioso come poche cose perfetto sperimentiamo di qua si sale signori attenzione rimettiamoci sempre la nostra spadina che schifo non ci fa e di qua si scende è scomodo il saltello lo so però per il momento è tutto provvisorio qua facciamo così perfetto qua ci mettiamo una bella torcia che non si sa mai e di qua scendiamo ok direi che abbiamo fino a morire forse potrebbe essere ok abbiamo fatto tutto bene ola ora che cosa andremo a fare nella prossima puntata ottimizziamo sicuramente il villaggio iniziamo a terraformare qua intorno e gli diamo un aspetto un po' più serio molto più serio e vediamo come iniziare a fare un po' di colonne per dargli quell'aspetto di città nanica il verde l'abbiamo messo il villaggio l'abbiamo messo ma ci manca di iniziare a fare i lavori per dargli quell'aspetto molto figo comunque ragazzoli io spero che questo episodio vi sia piaciuto vi auguro una buona serata e ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi ciao